Vediamo chi è più bravo a dipingere le uova, secondo me. Secondo me te. Anche secondo me te. No, il dito. Questa è stile maglietta dell'Inter. Sì, perfetto. Uno fatto. I can do two? Come? Già questa riga è tutta store. Eh, però io ho vinto, eh. Ho vinto facile. Questa faccio proprio un mix. Disastro. Un'opera d'arte. Un'opera d'arte. È un'opera d'arte. È ok? Buona Pasqua, Interfans. Buona Pasqua a tutti Interfans. Weiss! Frohe Ostern an alle Interfans. Alles Gute euch! Buona Pasqua a la familia Interisti. Un'oraxatec! Vesbolloris. Happy Easter, Interfans! Grazie a tutti